Secondo la top 10 delle università migliori al mondo, l'Italia occupa il settimo posto, mentre nell'Unione Europea il secondo dopo la Germania, sventolando così un successo nel settore dell'istruzione. Il Sud Italia purtroppo, nonostante i diversi Atenei presenti, non rientrano nella lista delle università riconosciute come eccellenze, ma la Federico II di Napoli invece rientra nella top 5 delle facoltà italiane. Il motivo dell'assenza degli Atenei del Sud dipende principalmente dal mancato miglioramento delle strutture, che al contrario è stato riscontrato al nord con una crescita in percentuale notevole. Tra i diversi obiettivi scolastici molto sentiti dai giovani, anche discussi dalle associazioni studentesche nelle giuste sedi, come il Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari, è l'incremento della qualità dei servizi e la garanzia su ogni linea delle pari opportunità, punti che potrebbero aver non permesso il riconoscimento in classifica degli Atenei del Sud. Tuttavia, nonostante sembra essere un percorso ancora abbastanza districato, il posto dell'Italia e anche delle facoltà meridionali nelle classifiche sono destinate a salire. Grazie.